Una felice tradizione, grande musica dove i protagonisti sono giovani studenti e questo e molto altro ancora i concerti del Chiostro, la tradizionale rassegna curata dal Conservatorio dell'Abaco di Verona con il patrocinio della provincia di Verona. Si inizia questa sera, primo giorno d'estate, festa europea della musica con il concerto e quindi uscimmo a rivedere le stelle con orchestra e coro del Conservatorio diretti da Andrea Palmacci e Paolo De Zen, maestro del coro. Significa moltissimo prima di tutto per i nostri studenti perché con questa iniziativa, con questo concerto del coro e dell'orchestra il 21 giugno, la festa della musica, noi vogliamo dare un segnale forte prima di tutto ai nostri studenti. Ragazzi si riprende a suonare dal vivo e questa è la cosa più bella per un musicista. Riprendiamo alla grande con il coro e con l'orchestra, quindi saranno quasi circa un 150 elementi che suoneranno alternativamente e suoneranno insieme. La gioia è proprio quella di riprendere a far musica insieme. Il concerto del coro e dell'orchestra è il frutto di un lavoro svolto durante questo anno decisamente infelice in condizioni veramente estreme perché chiaramente la DAD è incompatibile con l'esercizio della musica e soprattutto con le esercitazioni orchestrali e le esercitazioni corali. Nutrito il programma dell'edizione di quest'anno che a partire da questa sera propone ben 13 appuntamenti che spaziano tra vari generi jazz, musica classica, musica per strumenti a corda solo per citarne alcuni. Noi abbiamo studenti che vengono da tutta Italia e anche da diversi paesi europei e quelli che vengono soprattutto ecco chi dal Piemonte, chi dalla Lombardia, chi dalla Sicilia, chi dalla Puglia, si sottopongono anche a viaggi per venire qui a studiare, a far musica e quindi sicuramente il fatto di tornare in presenza è stata una delle direi necessità anche etiche per dare modo a questi ragazzi di sperimentarsi, di provare insieme con gli altri compagni sotto la supervisione dei colleghi è importante ricominciare ed è importante appunto ricominciare nel giorno della festa della musica, che sia veramente una festa.